ring ring pare che il tuo telefono abbia bisogno è barbie che vi parla per un annuncio speciale la casa da sogno è appena diventata ancora più grandiosa tocca la primavera è nell'aria vieni a divertirti con noi usa il creatore di biglietti e crea un biglietto di auguri per la signora roberts mia madre ha creato questo incredibile macchinario si chiama il crea biglietti con il crea biglietti possiamo creare biglietti di auguri per qualunque occasione liberiamo la nostra creatività wow è facilissimo da usare scegli uno sfondo poi una cornice qualche adesivo e voilà quando sei pronta premi il pulsante per stampare il tuo biglietto sfondi cornici adesivi dei personaggi matite wow 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 Hai finito di creare il tuo biglietto di auguri? Usa il creatore di biglietti e crea un biglietto. Dona il tuo nuovo biglietto di auguri alla signora Roberts. Dona il tuo biglietto di auguri alla signora Roberts. Ecco fatto! Un regalo tutto nuovo per te! Tocca il regalo per aprirlo! Cosa? 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 Vediamo quali ricompense potresti vincere questa volta Wow, incredibile! Che ricompensa fantastica! Vai a dargli un'occhiata nel... Il tuo primo post in assoluto! Riesci a leggere i commenti che ti hanno scritto tutti? Hai anche dei nuovi follower! Che emozione! Più post pubblichi su Barbiegram, più follower avrai! Ma niente paura! Solo gli amici della casa da sogno possono lasciarti piacevoli messaggi! Continua a creare e a divertirti per tutta la casa da sogno! Ogni volta che caricherai qualunque cosa, noi ci saremo! Tutti noi non vediamo l'ora di vedere tutti i tuoi post! Modalità fotocamera attivata! Muovi la fotocamera con il dito, poi premi il pulsante per scattare una foto! Magia! Una tua nuova foto! Tocca il pulsante condividi sulla tua foto! E voilà! Puoi uscire dall'app fotocamera e andare a leggere i commenti su Barbiegram! Andiamo, andiamo, andiamo! Oh! è l'app di pulizia della casa da sogno puoi usarla per iniziare il programma di pulizia i nostri robot puliranno la stanza per te non è incredibile? vuoi pulire questa stanza? l'impresa di pulizie sta arrivando! cosa sarà mai? che stile! telefono nuovo chi sei? scherzo! riconosco il tuo sorriso hai sentito? è primavera! dai un'occhiata a tutte le cose carine aggiunte alla casa da sogno incluso il tuo nuovissimo telefono tocca e prova tutte le nuove app potenze! ciao! il nostro canale è un po' un po' lo non è è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.